Ciao ragazzi bentornati sul mio canale, questo sarà un video collaborazione con California Cree che molti conosceranno ed è un ragazzo simbaticissimo, dolcissimo, divertentissimo Cosa facciamo, cosa non facciamo, Cristian ha avuto l'idea di creare dei make up sull'oro con dell'oro E per questo abbiamo chiamato Oh My Gold Io non potevo non dire di no, cioè Oh My Gold, adoro E niente, il mio è un cut crease abbastanza semplice E poi ho un po' di oro sfarso per il finito Ci vediamo al prossimo video, spero che questa collaborazione vi piaccia Iscrivetevi ai nostri canali e un bacione Iscrivetevi ai nostri canali e iscriviti ai nostri canali Iscrivetevi ai nostri canali e iscriviti ai nostri canali Iscrivetevi ai nostri canali e iscriviti ai nostri canali Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.